Grande trepidazione attesa per il debutto dei Legnanese a Cassano Magnago, con uno spettacolo inedito dal titolo Liberi di Sognare. Più di 100 spettacoli, partiremo sempre comunque da Cassano Magnago, perché insomma è così che deve essere, perché la tradizione va mantenuta, la storia, la cultura, lombarda, eccetera, in più anche quella cosa. E novità importante, un nuovo Giovanni, attore e cabarettista a volto noto varesino. Italo Giglioli, nuovo Giovanni dei Legnanesi. Buonasera a tutti, cosa vi devo dire? Grande soddisfazione, grande entusiasmo perché io da sempre ero fan come pubblico dei Legnanesi, che sognavo, dico magari un domani chissà una particina e riuscirò ad averla, ma così è troppo insomma. Voglio dire, sono felicissimo di essere, come diceva l'altro giorno Antonio, entrato proprio alla grande dal portone che spero di onorare. Abbiamo dedicato tutto il primo tempo ai fiori. Perché i Legnanesi sono sempre sul pezzo. Bravo Antonio, bravo. Quindi, chi meglio dei giardinieri possono salvare questa natura, questi fiori, eccetera. I giardinieri, quindi. Vero, infatti abbiamo creato, ha creato Enrico un meraviglioso finale del primo tempo, bellissimo. Fiori, musiche, cose, davvero una scenografia meravigliosa, devo dire la verità, non perché lui, perché è mia figlia, però devo dire la verità, ha lavorato veramente, veramente bene. Insomma, siamo contenti, i testi sono meravigliosi di Metia del Brocco, insomma anche lei ancora ha scritto i testi per i Legnanesi o meno. Il teatro Auditorio finalmente apre le sue porte ai fan della famiglia Colombo con la sua nuova veste appena rifatta. Ha riverniciato tutto l'atrio, le nuove toilette rimesse a nuovo. Vediamo la nuova sala con i pavimenti, rifatti i pavimenti, riverniciate le pareti e le nuove poltroni. Insomma, mi raccomando, venite, venite da Cassano, partiamo, eccetera. Siamo partiti, partiremo, insomma, poi arriveremo a Varese, poi Legnano, poi andremo a Parma, Ferrara, eccetera. Poi torneremo a Milano dal 31 di dicembre, festeggiate l'ultimo dell'anno con i Legnanesi perché porta bene. Grazie di cuore, vi aspettiamo a teatro e ricordatevi, non fate morire il teatro, va bene? Ciao! Ciao!